6-2-6-4 per Anna Rippa, ma il punteggio non deve ingannare. La finale di Goito è stata combattuta. Tra la Marmirolese e Mariangela Bonotti ci sono 15 anni di differenza e un conto in sospeso, visto che i due precedenti, a San Giorgio, avevano sempre visto Rippa vincitrice in due set. Ma il copione non è cambiato. La tennista cremonese ha commesso più errori gratuiti nel primo parziale. Sapevo già prima di entrare in campo che la partita non sarebbe stata facile, visto la qualità dell'avversaria. Ero un po' tesa all'inizio, tra l'altro mi ha regalato qualche punto in più nel primo set, per cui il risultato del primo set è un po' sfalsato. Nella seconda frazione il livello è cresciuto e Rippa ha preso più campo, costringendo l'avversaria sulla difensiva. Poteva andare bene come poteva andare male il secondo set. Ci sarebbe stato da rigiocare probabilmente un terzo, però è andata bene, ho stata fortunata qualche palla decisiva e sono riuscita a chiudere fortunatamente in due set. Sul match point anche un nastro fortunato, ma Bonotti non recrimina, anzi in cassa con molto fair play. Io penso di avere giocato il mio tennis, almeno per quanto possibile, posso dire però tranquillamente che l'avversaria è superiore. Io ho giocato tutte le mie carte, vittoria meritata per la terza volta. Un ottimo torneo, è sempre un piacere, ormai è un'abitudine incontrare Anna in finale e ci vediamo l'anno prossimo se si ripeterà il torneo. Il torneo, diretto dal giudice arbitro Gianni Iudicone, va in archivio con un successo tecnico e organizzativo. Per Rippa e Bonotti un altro passo verso la promozione in terza categoria.